Le anime dei santi in cielo vedono Dio faccia a faccia, ma si interessano anche di noi che stiamo ancora combattendo per la salvezza eterna. Infatti i santi possono intercedere continuamente per noi, soprattutto se li invochiamo. Se non si interessassero anche di noi non potrebbero essere santi. Ci sono molti santi per noi sconosciuti, ma ci sono tanti altri che trascuriamo solo perché portano un nome che per noi è un po' strano e che a volte riteniamo quasi ridicolo. Per questo pochi genitori chiamerebbero il proprio neonato con quel nome, ma la cosa più assurda è che non chiediamo la loro intercessione solo perché non ci piace il loro nome. Oserei dire che essi dal cielo vorrebbero farci ottenere delle grazie e forse le concedono più copiosamente a quei pochi che le chiedono con il cuore. Per questo si dice che San Giuda Taddeo è stato per secoli trascurato solo perché porta il nome del traditore. Ora è stato riscoperto e molti ricorrono a lui ottenendo molto. Chi invoca ad esempio San Leonzio, San Procopio, Santa Brunilde, Santa Amalberga, Santa Scolastica, Santa Rufina, San Evaristo, San Taniceto, Sant'Adolfo, San Benito. Eppure sono pronti ad esaudirci appena ricorriamo a loro e spesso ottengono da Dio per noi molte più grazie di quello che pensiamo. È giusto chiedere l'intercessione di tutti i santi, ma è anche possibile che quelli più trascurati ci vengano incontro e ci esaudiscano più facilmente.